Il Padre Nostro, il 6 decenni, sia stato delegato in Colombo, perché il regno, il giudato, la tua volontà, come in cielo e l'interno, nasce oggi il nostro Padre, il campo, e il mio amore, il mio Dezio, che noi le dimentiamo ai nostri debitori, che non abbandonarsi alla tentazione, ma lì c'è la città del Padre, questa ruota di fiori che mettiamo in mare, con le strisce dei nostri regali, che hanno un po' di noi e tutti quanti attraverso la vita, sia per il lavoro, sia per la voce, 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 cercavano una terra, una casa, un futuro, una dignità da dare alle loro vite e alle loro famiglie. Questo legame, tramite questa corona di fiori, che la marina militante, la guardia costiera, la capitaneria di Porto, e come metteranno in mezzo alle acque, vuole significare un legame, ma vuole significare anche un ricordo. non dimenticare, ma scontare il grido, il grido di quando sono a ricerca di giustizia. tramite questa corona di fiori, che la marina militante, la capitaneria di Porto, e come metteranno in mezzo alle acque, vuole significare un legame, ma vuole significare anche un ricordo. e quando sono a ricerca di giustizia, di dignità, di peccate, benedica il Signore, i nostri sforzi, benedica dell'amore di madre di abbinato tutti i morti che sono sempre qui in queste acque del Mediterraneo l'eterno riposo della nera Signora che splende adesso e verbe e non si intorace l'amore 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 l'amore